Puntata in cui andremo ad esplorare la cardiologia vista con un occhio moderno. Parleremo di statine, parleremo di colesterolo, ma soprattutto parleremo di quanto lo stile di vita possa e debba avere un'importanza fondamentale nella clinica di tutti i giorni. Salve a tutti, ben ritrovati in questo nuovo episodio dal carattere strettamente preventivo. Sono molto curioso di vedere cosa uscirà. Vince, a te la parola. Pensavo che mi dessi là con la parola funzionale e invece non l'hai fatto. No, ancora no. Ancora no. Dimmi tu quando dobbiamo tirarla fuori oppure no, oppure se salutiamo l'ospite lo presentiamo. Lo presentiamo e useremo questo gancio per il termine funzionale, in quanto il dottor Carlo Maggio, che è cardiologo, ha anche un ruolo di spicco in IMF, l'Associazione Italiana di Medicina Funzionale. Ciao Carlo, vuoi presentarti per chi non ti conosce? Certo, Manuel, ciao Vincenzo, ciao Manuel, ciao a tutti. Allora, io sono un cardiologo, vivo e lavoro a Rivoli, Torino. Ho un centro medico orientato appunto, come diceva Manuel, alla prevenzione e alle diagnosi precoce. Sono un cardiologo che comunque si interessa di medicina funzionale. Sono attualmente il segretario nazionale dell'Associazione Italiana di Medicina Funzionale, che è un'associazione scientifica che si interessa appunto di promuovere la cultura della medicina funzionale. Cos'è? Due parole per dire cos'è la medicina funzionale. È una branca della medicina che non entra in contrasto con la medicina convenzionale, ovviamente, ma è di supporto perché interviene una fase immediatamente precedente a quella dell'insorgenza malattia. Cioè la medicina funzionale si occupa di ripristinare le normali funzioni del nostro equilibrio. Quindi è la vera medicina preventiva, la medicina che serve a fare in modo che il nostro organismo non vada incontro alle malattie, per quanto possibile ovviamente. E un altro campo di interesse, finisco con questo Manuel, è quello della regolazione del sistema neurovegetativo per rispondere allo stress. Ecco, la medicina funzionale ha tanti campi di interesse, questo è uno di quelli preminenti. Ecco, visto che hai usato questo termine, c'è descritto la medicina funzionale, io ti faccio subito la prima domanda. Che in realtà può essere ramificata? Quando hai iniziato, quando hai iniziato la tua attività clinica come cardiologo, tu li sei approcciato subito nell'ottica della medicina funzionale oppure l'hai approcciata in seguito? E se l'hai approcciata in seguito, come ti ha cambiato la visione della tua pratica clinica? Come l'ha migliorata magari o semplicemente come l'ha variata? Bene, poi dimmi Manuel quanto tempo ho, mi interrompi perché posso anche fare sinteticamente, no? Quindi inizia l'assolenza quando avevo sei anni, figuriamoci. Comunque sinteticamente, quando avevo sei anni vengo ricoverato per un'ustione grave al bambino Gesù a Roma, al reparto grandi ustionati, e lì c'erano dei medici che erano bravissimi ma mi sembravano poco umani. Adesso senza entrare nei particolari, comunque alla fine ho detto da grande voglio fare il medico e voglio essere anche empatico. Voglio cercare di vedere tutte le persone come mio padre, mio mario, mio fratello, mia sorella o come i miei figli. Cioè avere un trasporto emotivo. Quando inizio a studiare medicina poi mi ero interessato ma si può fare prevenzione? Poi sono stato travolto dalla bellezza della cardiologia però ogni volta che mi trovavo a defibrillare una persona perché andava in arresto cardiaco oppure a trattarla per un infarto cardiaco acuto dicevo ma non si poteva in qualche modo evitare tutto ciò? Quando ho avuto l'incontro nel 2012 anzi primo ho iniziato con la naturopatia quindi ero già sensibile mi sono poi diplomato come naturopata ma l'incontro più importante è stato quello con la medicina funzionale devo dire che all'inizio ci sono andato perché era un bel posto al mare dove facevano, tenevano le lezioni che me ne fregava poco la medicina funzionale ma era bellissimo questo posto Castellaneta in Puglia avevo visto questa spiaggia bianca ho detto vado, mi faccio una vacanza poi invece mi sono interessato alla medicina funzionale e da lì è diventata la mia passione e quindi credo che debba servire a tutti proprio conoscere un po' di medicina funzionale perché vuol dire fare prevenzione e mantenere la propria salute quella è la cosa più importante Io ti chiedo una cosa Carlo visto che hai intrecciato i termini medicina funzionale, prevenzione poi hai parlato della tua esperienza mancava empatia quindi io volevo farti quasi abbattuta quindi si può fare la medicina in modo empatico perché immagino che il medico vecchio stile aveva un grossissimo distacco perché doveva essere così io ti chiedo e qui Manuel adesso mi ucciderebbe se fossimo amicini sono curioso di capire com'è la tua interpretazione del termine proprio funzionale cioè cosa significa se io da ignorante ti chiedo cosa significa funzionale? certo allora ti rispondo prima al discorso della medicina empatica e poi al termine funzionale allora medicina empatica guarda noi abbiamo tra i nostri docenti un professore universitario che si chiama Luca Ostacoli è a Torino ed è uno psichiatra che insegna psicologia e psicologia delle emozioni sono stato a un suo bel corso e devo dire che mi ha un po' razionalizzato quello che già avevo in mente di come deve essere un rapporto tra medico e paziente esiste il rapporto in cui il medico è distaccato e non partecipa emotivamente minimamente alle sorti del paziente che non è un gran bel modo cioè per carità corretto senza comportarsi male ma è distaccato una seconda invece possibilità è quella di essere proprio emotivamente coinvolto ma alla fine essere emotivamente coinvolto soprattutto sugli aspetti negativi della malattia rischia di minare il distacco che serve per la terapia allora c'è una terza posizione che è la loving presence in cui il medico entra empaticamente ma con gli aspetti positivi della persona cioè punta a mettere in evidenza quelle che sono le risorse emotive buone del paziente non a compatirlo non a entrare nella depressione nella malattia ma a tirar fuori meglio che ha il paziente emotivamente quindi coinvolgere le energie positive che il paziente ha quindi la loving presence mi sembra la cosa più bella cioè avere un'empatia col paziente vuol dire farsi carico delle sue emozioni quelle positive e tirarle fuori e farle diciamo espandere al massimo per dare la possibilità anche a quelle che sono le risorse naturali del paziente affinché guarisca quindi questo in soldoni la loving presence secondo me sintetizza chiaramente non è che è tutto però è un bel modo di concepire un rapporto dove emotivamente si è impegnato ma non in maniera negativa quanto a diciamo dare una carica una motivazione al paziente questo è il discorso della loving presence invece per quanto riguarda il discorso della funzionare allora cosa noi siamo degli organismi complessi la prima cosa da capire è che siamo organismi ognuno con una propria individualità biochimica psicologica fisica fisiologica quindi abbiamo siamo esseri completamente diversi l'uno dall'altro anche se poi abbiamo delle funzioni comuni di base come cuore un cuore batte nel mio corpo batte nel tuo Vincenzo in quelle mani e quelle di chi ci sta ascoltando altrimenti non saremmo qui a parlarci quindi abbiamo delle funzioni un po' individuali delle funzioni invece grossomodo generali che si intersecano tra loro il nostro organismo mette queste funzioni hanno la capacità di regolare a loro volta altre funzioni che mandano dei segnali dei feedback di ritorno per dire allora puoi lavorare così ma siamo un insieme sterminato di funzioni ecco che cosa succede spesso che si perde la salute perché queste funzioni vanno a vacillare non sono più regolate bene ancora primi che si arriva alla malattia esempio io ho pazienti di 65 70 anni che nel lettino non riescono a piegarsi hanno difficoltà non solo perché a volte hanno la pancia ma proprio perché ormai hanno una perdita del loro tono muscolare della loro capacità muscolare di piegarsi non sono malati non hanno una diastasi drette dell'addome o un problema alla colonna vertebrale gli impedisce di piegarsi perché non fanno più quell'esercizio che è semplicemente piegarsi utilizzare gli addominali lì si è una funzione sta scemando ma non c'è una malattia c'è una funzione da riattivare da il termine verbo che utilizza la medicina funzionale è modulazione esempio l'infiammazione ci difende ma può danneggiarci se è eccessiva quindi la medicina funzionale si interessa per quanto riguarda la funzione infiammazione di andarla a modulare né troppa né poca ci vuole quella giusta affinché il nostro organismo possa rispondere a delle noxepatogene quindi il termine funzionale vuol dire andare a ripristinare le funzioni per ottenere la massima performance biologica del nostro organismo ovviamente se abbiamo dei problemi genetici abbiamo una scoliosi quella è non è che si può diciamo ovviare però magari anche all'interno della scoliosi tu puoi avere magari una capacità muscolare o funzionale un'elasticità diverse a secondo di quello che fai per esempio sui tuoi muscoli la tua attività fisica quindi ecco funzioni partiamo dalle basi dalla nutrizione partiamo dall'attività fisica dall'ambiente che non sia inquinato dall'integrazione e supplemento quando servono per fare in modo che le nostre funzioni svolgano al meglio il loro compito quindi tante funzioni che si integrano e che funzionano bene so se sono stato chiaro però ecco questo è un po' la fisiologia ritornare alla fisiologia ottimale del nostro organismo ok e in questo senso hai detto che l'approccio funzionale ma in realtà poi ci auguriamo sempre che sia un approccio generico per tutti si focalizza anche dando una grossa importanza allo stile di vita quindi prima che ci si manifesti si manifesti il problema in questo senso per te quali sono stati i cambiamenti più grandi che hai visto se ne hai visti nel tuo ambito riguardo l'intersezione con lo stile di vita cioè mi spiego certo capita moltissimo che da nutrizionisti ci arrivi il paziente che è stato dal cardiologo e il cardiologo dice mangi di meno si muovi di più come quello è l'approccio allo stile di vita e sintetizza lo so è però così fa tanto mangi di meno ad un anziano sarcopenico non va bene non va bene all'anziano sarcopenico però in realtà capita tantissimo che questo sia il massimo della clinica dello stile di vita in cardiologia per tante esperienze avuto da noi ovviamente tu come la pensi in questo senso cioè riesci nella tua pratica ad intersecare un po' di più beh questa è una bellissima domanda Manuel perché pone l'accento ormai su un concetto abbastanza noto che è quello della squadra io ho fatto una presentazione proprio a partire da un articolo di medicina funzionale che diceva che se oggi vogliamo arrivare a dei risultati ci vuole un team non puoi pensare da solo di riuscire a affrontare tutte le tematiche che non sono di tua competenza cioè un cardiologo normalmente formato di nutrizione ne sa pochissimo allora va bene pure che dica mangi di meno ma non si deve fermare il messaggio deve dire guardi che l'affido ad un mio collega che è un nutrizionista funzionale se possibile che sarà lui a incaricarsi di valutare tutto quello che è il suo benessere nutrizionale quindi oggi bisogna essere umili e capire che ci sono delle cose importanti allora intanto facciamo una premessa che mi hai stimolato con questa domanda allora oggi mentre stavo visitando dalla segreteria viene la mia la mia segretaria mi fa vedere un elettrocardiogramma un ecocardiogramma una visita che aveva appena svolto un cardiologo una paziente si era messa a piangere no? e che perché ha trovato scoperto che aveva avuto un infarto lei non se ne è accorta un infarto addirittura il cuore era anche aveva un aneurisma insomma era un cuore un po' malandato vado a vedere fumatrice di 30 sigarette al giorno no? quindi questa persona intanto che si stupiva no? noi ci stupiamo se poi che ne so delle cose che tutti dicono attenzione sono pericolose poi comportano il problema questa persona magari avesse smesso di fumare vent'anni fa non andava incontro all'infarto quindi questa è l'importanza io ho gente che ha buttato tre farmaci antipertensivi dimagrendo 20 chili 25 chili quindi la potenzialità della stile di vita è enorme ovviamente non sono di quelli che pensa che con lo stile di vita risolvi tutti i problemi del mondo magari fosse così magari quindi non è che uno dice io mangio bene faccio una bella attività fisica non mi succede niente ma dove? però è chiaro che si riducono fortemente i rischi che ti succeda qualcosa quindi noi dobbiamo avere la capacità Manuel di creare delle sinergie fra operatori in campo del benessere che sia il medico che sia il biologo nutrizionista che sia perché no il farmacista l'osteopata il fisioterapista tante figure dovremmo coinvolgere a secondo del problema ovviamente magari c'è quello che non ha bisogno del fisioterapista non ha bisogno di altre figure professionali però io tu sai come la penso credo che la figura del medico col biologo nutrizionist dovrebbe veramente andare a braccetto perché il medico non ha più il tempo né la voglia né le capacità di poter seguire l'aspetto nutrizionale quindi non basta la generica di mangiare meno ma chi è? ma noi lo sappiamo benissimo che anche già quando riusciamo a fare una visita dietologica ad un paziente ancora è solo l'inizio ci sono i drop out c'è gente che fa la dieta per un mese poi finisce lì invece bisognerebbe veramente creare un circuito tale per cui c'è una continuità assistenziale si fa un percorso e il paziente entra che ha dei problemi nutrizionali e almeno in parte si cerca di risolverli ma ci vuole l'approccio di figure come la tua adesso non so se Vincenzo anche fa il biologo nutrizionista anche come quella di Vincenzo però ti chiedo una cosa su questo scusami Vincenzo se ti scavalco in realtà non è proprio una curiosità è quasi una provocazione ma non verso di te ma verso i pazienti perché se arriva un paziente che viene dal cardiologo e il cardiologo gli ha detto faccia la dieta in caso non ci abbia voglia di farla si prende il farmaco per me questo è un messaggio che comunque è tra virgolette pericoloso perché il paziente poi arriva e dice vabbè tanto se non faccio la dieta non abbio il farmaco è tutto a posto quindi da questo punto di vista io ti dico tu hai il coraggio aspetta 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 è bella questa domanda è già la seconda volta che c'è questa risata e adesso sono curioso di quello che che ti è scattato in testa che hai pensato Pietro sia quando e tu prima vado e hai detto mangia di meno muoviti di più e quindi io mi sono immaginato chissà cosa sta pensando Carlo in questo momento che ride e anche adesso quindi adesso non ce l'ho fatto ti devi dire cosa devi pensare cosa stavi pensando allora intanto mi è venuta in mente una barzelletta che avevo visto dice guardi basta una compressa e lei vedrà che risolverà tutti i suoi problemi questa compressa era talmente grossa che impediva la persona di mangiare proprio tu pure allora quindi che bobbessa li bloccava proprio la nutrizione allora è un messaggio assolutamente fuorviante questo qui che non perché qual è il discorso che io non posso ovviare a problemi di malnutrizione con una compressa mettiamo pure che questa malnutrizione comporti un aumento della pressione è vero che io senza interferire minimamente lascio mangiare le schifezze a questo paziente gli metto a posto la pressione assolutamente sono in grado di farlo io sono mi interesso di ipertensione quando si è malata mia sorella prima ancora che facessi di ipertensione prima facessi lo studente quindi diciamo che il 98% dei pazienti con i farmaci li metto a posto allora io dico ma quella persona che mangia male non è che andrà incontro solo al problema di pressione andrà incontro al problema di glicemia di colesterolo di trigliceridi di infiammazione cronica di basso grado e che faccio do 25 compresse per coprire tutti i danni che poi quindi non esiste sta storia cioè non è poi neanche non è nemmeno motivante mettiamo che uno la voglia fare per cercare di motivare la persona ma quella persona che cosa fa chiaramente dice ma se io devo rinunciare al mio cornetto al mattino provisco prendere la compressa perché tanto ecco là che sono a posto non sei a posto stai continuando a mangiare male magari quindi sono d'accordo con te ma quelle non sono proprio premesse da fare ma anche il fatto scusami facciamo un twist perché effettivamente lato alimentazione si può vedere si può osservare come sì effettivamente continui a mangiare male e io ti devo dare le famose politerapie in cui i pazienti hanno 6-7 6-7 pillole per tutti i vari si guarda quante ne potrebbe evitare con lo stile di vita ma se guardiamo ti chiedo di guardarla dal lato del farmaco no quindi l'abbiamo detto dal lato nostro di chi ha a cuore la prevenzione e io ti dico la domanda diventa ma prendere un farmaco per un corpo vuol dire che effettivamente lo puoi fare cioè il corpo tollera il farmaco secondo te l'impatto di un farmaco è come dire sì tanto prendo la pasticca per la pressione è come se avessi la pressione bassa prendo la pasticca per il colesterolo è come se avessi il colesterolo basso si può dire questa cosa oppure no? no assolutamente ci sono tanti studi scientifici che hanno dimostrato che ha parità di pressione tu prendi due persone che hanno 120-80 a stessa età stessi fattori di rischio quello che ha 120-80 naturalmente senza pressione avrà minori eventi cardiovascolari di quello che ha 120-80 con il farmaco quindi il farmaco riduce il rischio è bello sentirlo dire no ma è documentato ormai anzi io ho delle proprio delle diaposite che mando per far vedere il rischio residuo cioè vale a dire comunque quando tu vai a mettere una toppa a un problema è chiaro io ti riduco il rischio di ictus no? un 220 verso 120 di massimo anche i topi capirebbero che voglio dire ma è una differenza enorme a me arrivò uno per fare un ECG per andare in palestra un signore di 55 anni bello grasso eccetera viene a fare io ho detto speriamo che vada in palestra che si inizia a mangiare meglio fa l'elettrocardiogramma l'infermiera lo stava liquidando ha detto no ma prendiamo anche la pressione aveva 260 su 140 allora io me lo sono guardato però alta questa pressione lui mi ha detto lei dice lei dice no se lei vuol fare il dirigibile prende con tutta questa pressione andare in cielo ho detto ma sta scherzando per dire qua l'ignoranza quando a volte 260 140 ma lo sanno pure i bambini gli altri quindi avere 220 o 120 è chiaro c'è una differenza abissale io mi arrivo a uno con 220 non posso non dargli i farmaci però non è che se lo porto a 120 è come un 120 naturale gli ho indotto un qualcosa un equilibrio che è sicuramente meglio dalla posizione di partenza ma non è quella ideale quindi se c'è un problema di malnutrizione soprattutto per eccesso o come una malnutrizione dove abbiamo tanto junk food o cose del genere non è che con la compressa andiamo ad alzerare il rischio quindi noi dobbiamo partire col concetto che se possibile le cose vanno risolte senza farmaci il farmaco è l'ultima scelta l'ultima sfonda che però è ovvio che in alcune situazioni non è come io non sono come quelli che dicono no farmaco no meglio poi fa male poi c'è tanta gente che ecco vorrei dire quindi allora non confondiamo gli effetti collaterali con le controindicazioni sono due cose diverse no? perché mi arrivano e dice che controindicazioni ha cioè però vogliono sapere gli effetti collaterali sono due cose diverse controindicazioni e effetti collaterali gli effetti collaterali dei farmaci li sappiamo quindi un bravo medico coscienzioso che magari si impegna e cerca prima di darti il farmaco e trovare una soluzione alternativa nel momento in cui trova generalmente ha fatto un'analisi rischio-beneficio se io do un farmaco per la pressione dico se glielo do è perché penso che questo qui magari questa persona possa avere più danni dalla situazione attuale che non dal farmaco perché il farmaco comunque non è un qualcosa quindi di nuovo spezzo una lancia a favore di tutto quello che possiamo risolvere con lo stile di vita dove la nutrizione la fa la padrona ma anche l'attività fisica è importante ovviamente ecco quello dobbiamo risolverlo così ecco perché la medicina funziona perché poi tra l'altro cosa succede se io lascio una persona con un campo di disturbo si dice medicina funzionale magari di origine alimentare no? vuol dire che questa persona per esempio fa un grande consumo di farine raffinate per esempio no? ce ne sono tanti che tra pizza pane pasta prodotti a forno ne mangiano una caterva e quindi hanno questo campo di disturbo forte fino a un certo punto io posso invertire e riportare la situazione allo stato iniziale ma dopo un certo numero di anni il nostro organismo ha una memoria biologica per cui inizia ad avere dei danni anche se non si manifestano come malattie quindi prima si interviene e meglio quindi il vostro lavoro dovrebbe già lavorare sull'adolescenza spesso o comunque nel giovane iniziare a indirizzare in una certa maniera non è disdicevole ma ho 25 anni magari ho un lieve sovrappeso ma si che vuoi che sia non è vero cioè anche lì che già deve intervenire no? quindi ecco l'intervento precoce dello stile di vita idoneo bisognerebbe lavorare molto sulle scuole sulla consapevolezza sarebbe molto da fare questa cosa qua il discorso ultimo che è stato fatto alla fine io lo vedo come una bilancia a due bracci dove metti un peso di qua metti un peso di qua poi se ne metti altri non è la stessa cosa rispetto a peso iniziale alla fine la bilancia si rompe tutta brava proprio così io ho un paio di domande qui una forse più relativa al tuo al tuo approcciarti a questa cosa e l'altra un po' più discorsiva la prima riguarda prima è stato detto ecco non fare la dieta tanto c'è il farmaco questa è l'indicazione comune però a mano e l'anche può confermare questa cosa ci sono magari anche dei professionisti che fanno questa cosa su ambiti che sono più leggeri tra virgolette quindi più subdoli mi spiego non fare attività fisica basta che mangi di meno ok ci sono non so se Manuel mi ha confermato di questa cosa ci sono anche questo tipo di 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 frasi di espressioni ecco e lì mi piacerebbe sapere la tua perché capisci che è più è più è più sottile cioè non si parla più di farmaco o stile di vita si parla si parla di una componente di stile di vita e un'altra componente dello stile di vita e quindi anche per la persona così come magari il professionista lo vede come cosa più genuina per me non lo è assolutamente no ma sì ma allora quello che dici tu Vincenzo è importantissimo allora che succede che ovviamente lo stile di vita dovrebbe essere inteso non solo in termini di dimagrire no? se io dico boh devo dimagrire solo limitato a quella piccola percentuale di obiettivo posso dire vabbè proprio non riesco a muovermi almeno no diciamo cercare una io penso sempre che per il calo ponderare la cosa più importante è la dieta e non l'attività fisica se vuoi fare il calo almeno che non ti metti a fare tre ore al giorno di attività figlio cioè ovviamente ma per una persona normale che può fare un'ora un'ora e mezza comunque conta più la dieta io vedo quelli che corrono con la pancia ma perché tu puoi anche fare un'ora e mezza di corsa poi mangi come un bufalo è sbagliato tra l'altro non è solo una questione di quantità ma di qualità e quindi invalidi tutta l'attività fisica quindi tra le due sicuramente è più importante ma stiamo parlando di calo ponderare con una piccola porzione della salute cioè non c'è solo quello quindi dire non fare attività fisica è come negare tutte le patologie invece legate alla sedentarietà e sono tantissime non è che con la sola nutrizione metti tutto a posto l'attività fisica ormai si è ritagliato uno spazio talmente importante in quello che è diciamo il benessere che ormai nessuno può dire non anzi tutte le mie guida dell'American College o di tanti altri società scientifici importanti dicono devi fare almeno 150 minuti la settimana di attività per gli adulti attività aerobica moderata intensa e in più anche due sedute la settimana di attività per la forza questo è il minimum sindacale poi dovresti fare quelli per per l'equilibrio per diciamo lo stretching c'è tutto un mondo ovviamente uno dipende quante risorse vuole investire però se pensiamo che la nostra salute e che magari potremmo indirizzarci perché a volte si tratta solo di piccole abitudini che devono essere introdotte tu inizi con un quarto d'ora al giorno che ce l'hanno tutti e piano piano ti ritagli degli spazi per aumentare la tua quantità di attività fisica quindi il discorso che c'è tu Vincenzo chiaramente sorprende me come sorprende te che vai a mettere quasi in contrapposizione due pilastri dello stile di vita ma non è non esiste adesso c'è addirittura alcune società scientifiche che i cardiologi dicono sono otto le colonne e il sonno non è di boh visto che è devi andare a correre ti alzi alle tre del mattino dalle tre alle cinque vai a correre perché è importante la corsa il sonno non è importante come tutte le cose bisogna guardare una cosa complessiva non dire che mettere uno contro l'altro armato perché se non fumi tu sei un dio non è che basta quello senti allora prima di andare verso la sezione finale ti faccio un altro punto che non era preparato mi è venuto in mente ora sempre dalla tua ottica di cardiologo che vedrai un nutrito numero di pazienti dal giovane al meno giovane questa è una cosa che è molto curiosa il paziente cioè proprio per non ragionare in termini non ragionare in termini estremamente riduzionistici il paziente non è solo attività fisica e peso certo al paziente o alla persona anzi dai facciamo così al triatleta che dice io faccio triathlon perché così posso mangiare quello che mi pare e rimango magro si può capita ma si può fare lo stesso discorso secondo te dal punto di vista medico di quello che dicevamo prima della pillola cioè si mi tiene a bada non prendi peso ma il fatto di mangiare male o di avere altri tipi di vizi comunque la struttura la metti sotto sotto tensione ugualmente giusto? allora guarda ti racconto questo episodio mi è capitato anni fa allora arriva un signore di praticamente era un metro e sessanta e qualcosa piccolino basso che faceva 120 kg immagina che pancia enorme no? mi presenta agli esami del sangue e ho detto avrà 400 di colesterolo no? aveva 150 di colesterolo totale io mi sono alzato mi ho stretto la mano complimenti e la prima persona che si sta avvicinando avere più chili di peso che miligrammi di colesterolo totale no? mai visto non credo che ci sia chi riesce a superare naturalmente che con il peso il colesterolo no? fino a 120 se questo avessi avuto 110 di colesterolo è il primo nella mia vita senza farmaco il farmaco vabbè che senza farmaci riuscire a avere il colesterolo quasi più basso del peso no ma gli sono fatti complimenti questi si chiamano quelli gli obesi metabolicamente sani ma ci sono i magri no? metabolicamente obesi cioè tu puoi far tutta la maratona che vuoi magari avere anche delle un six pack che è un fantascientifico che si vede a 5 miglia di distanza ma non vuol dire che il tuo sangue sia a posto il tuo metabolismo sia a posto eccetera magari ci sono quando mangi male mangi male c'è niente da fare quindi magari non li vedi subito gli effetti non li vedi esternamente ma le tue cellule se ne accorgono e come se ne accorgono dovrai mangiare robaccia le tue cellule prima o poi risponderanno con una disfunzione come dice la medicina funziona la disfunzione se poi non è regolata va incontro alla malattia quindi questi qui fanno l'alimentazione come quello che fuma dice ma io cioè c'è gente che fuma e non muore di cancro ma che significa se magari muore di altra cosa e poi non è detto che magari questa è una persona destinata a vivere 90 anni ne vive 80 10 anni muore 10 anni prima quindi il fumo fa male a prescindere non è che dico vada io corro e va bene come un mio amico in diretta eravamo in diretta su una tv nazionale eravamo c'era la presentatrice al centro io ero di lato e lui anestesista si è messo di qua allora questa fa la domanda al cardiologo che il fumo fa male è uno dei principali fattori che crea problemi di mortalità eccetera il collega ha detto sì però se prendiamo gli antiossidanti riusciamo a tamponare in diretta davanti a tutti perché lui era un fumatore e questa mi guarda tra di tutta rossa la presentatrice credo che il cardiologo sia d'accordo e ha detto fare niente quindi che vuol dire che tu fai triatleta sei pieno di antiossidanti no dopo quando fai la corsa ne tiri fuori di radicali liberi ma comunque hai tutti questi effetti benefici ma stai invece ignorando l'altro aspetto è quello della dieta è come dire io faccio attività fisica e sono a posto quindi posso fumare ma manco per niente quindi non puoi mangiare male poi chiaramente se uno ci si spara tutti diciamo quello che si vuole nella vita se vuoi mangiare male io mi ricordo che faccio anche ogni tanto diete mi ricordo anche io di farle allora venne da me una signora che io praticamente ho fatto la dieta a marito e moglie insieme marito ma la sono cavata anche se poi già metto più attente le donne e questa qui arriva e vado a vedere prima io faccio vedo faccio un diario alimentare vedo quello che mangia la persona sulla base di quello che mangia la persona ci costruisco quello che penso sia più giusto per lei e poi si va a vedere bioimpedenzialeria si controlla eccetera no e lei mi dice io prendo croissant tutte le mattine ma è proprio indispensabile questo croissant tutte le mattine non possiamo fare la colazione diversa guardi che se mi toglie il croissant io divorzio dal mio marito perché il mio marito deve sempre mangiare il croissant al mattino no allora io ho visto la moglie per il marito allora e ho detto guardi se è proprio una questione di divorzio lo terremo questo croissant troveremo una soluzione alternativa cioè quindi questo me l'ha detto quindi se il triatleta dice ma io voglio mangiare come un dannale e ah boh mangiare come un dannale ma non ti aspettare che facendo il triatleta questo non ti faccia male questo non te lo dico non lo sottoscrivo non lo firmo ok senti prima di lasciare la parola a Vincenzo ti devo fare una battuta visto che è nata da un tuo collega con cui lavoravo quando vivevo a Roma che mi fece oh comunque se la metà dei pazienti ti desse retta veramente a quello che dici io ne vedrei molti di meno quindi di la verità che tu ti occupi di nutrizione proprio perché se no c'è troppi pochi pazienti no anzi guarda purtroppo succede questo è che intanto anche a mangiare bene per esempio c'è il rischio di sviluppare tutta una serie di malattie chiaramente noi possiamo ridurre il rischio ma non è che sia zero non parte questo eccetera quindi io purtroppo faccio raramente visite nutrizionali a perché penso ci sia gente più in gamba come voi due e b perché comunque la mia attività è fare il cardiologo però perché faccio quella visita al mese eccetera perché mi tiene impegnato a non dimenticare che esiste quell'argomento cioè sento poi le confessioni delle persone che ti dicono come mangiano capisci quindi poi quando invece devo dare dei suggerimenti rapidi ai miei pazienti quando faccio la visita cardiologica sfrutto quell'esperienza da nutrizionista e che quindi riesco a capire quale possono essere le logiche che portano a una certa cosa è ovvio e diverso fare proprio una dieta io comunque per esempio faccio sempre due domande a quanta attività fisica anzi tre poi col sonno ma comunque quanta attività fisica fa la persona che sapere e chiedo non lo specifico cosa fa e limitatamente a un piccola porzione quante verdure mangia la persona perché dico sono per l'approccio anche della nutrizione positiva ti ricordi ne avevo parlato l'altra volta a Montesilvano la nutrizione positiva non è che sbaglia dice puntiamo anche su quello che è far mangiare alcune cose no piuttosto che dire solo limitare allora noi sappiamo che l'olio extravergine oliva e le noci sono in prevenzione cardiovascolare tra gli alimenti più potenti insieme alle verdure a foglia verde perché non andare a chiedere ma mangia la verdura a foglia verde mangia delle noci prende dell'olio extravergine cioè piuttosto di dire non mangiare no e magari questo poi lo farà il nutrizionista sperando io quando vedo io dal sovrappeso l'obesità dico sempre fare una visita nutrizionistica sempre vada fare una visita nutrizionistica sovrappeso obesità quindi un aspetto arriva a quello che è a 35 body mass index quindi già lavoro sul sovrappeso ma soprattutto sull'obesità tutti gli obesi dico deve fare una visita nutrizionale e adesso ormai il calo ponderale nel soggetto obeso con un grossa massa grassa è apprezzato da tutti anche i nefrologi per migliorare la funzione renale fanno dimagrire anche gli ortopedici per ridurre il rischio di gonartrose eccetera fanno dimagrire ormai si sa che l'obesità è gli oncologi quindi diciamo l'obesità è purtroppo proprio il green pass se vogliamo chiamarlo così per poi avere i problemi di malattie quindi non cerchiamo di intervenire quindi quello che dici sono d'accordo con te Manuel sono quelle riflessioni che dovremmo fare tutti è vero sì alla fine me la feci in realtà come battuta ma è ovvio che nasceva da un'importanza dello stile di vita perché è una battaglia che dobbiamo combattere tutti perché è tanto effettivamente magari noi tu hai detto una cosa molto bella a Montesilvano anche l'hai ripetuta perché spesso nei congressi magari ce ne parliamo sempre tra di noi però in realtà fare eventi aperti al pubblico è un grosso passo in avanti in modo che non rimangano sempre delle cose che magari ecco fanno anche sorridere tra di noi ma che rimangono difficilissime da da condividere Vin se vuoi fare questa cosa perché poi sai Manuel che a me piace anche questa cosa qua ci troviamo molto col pensiero di di Carlo cioè di introdurre piccole abitudini volta per volta però c'è la difficoltà da parte di chi riceve di dire che so sono venuto qui da un professionista sono davanti a un medico e devo fare solo queste piccole cose questa poco solo questo devo fare che so devo svegliarmi prima al mattino devo regolare la sveglia per andare a dormire dentro le 11 e svegliarmi alle 7 quindi magari se ci vuoi raccontare anche tramite un aneddoto di tuo in cui hai risolto una condizione a partire da queste piccole cose e a me interessa poi anche personalmente come posso usare questo termine valorizzare quel consiglio che è molto semplificato se ci pensiamo rispetto a la consulenzona con tutto il programma da qui a un anno di tutto quello che devi fare e quindi queste due diciamo queste cose ti chiedo un aneddoto che ci fa capire un po' quanto effettivamente sono di valore queste cose e come poi andare a valorizzare ma sì poi basta parlare di esperienze mi viene in mente adesso che magari sono riuscito a far smettere di fumare tre o quattro persone raccontate della mia esperienza perché io sono stato fumatore quando ero ragazzo a 21 anni fumavo le camere tra l'altro credo che ci sono tre sigarette per i giorni che sono a commercio quindi no che poi c'era un dromerario più che il cammello ma comunque insomma no quindi fumavo queste sigarette perché c'è la mia fidanzata da allora fumava le camere e quindi come un pirla non è che è merito no che poi cambia niente insomma comunque brava favola fumavo queste camere e ero al terzo anno di medicina anzi al secondo anno di medicina quindi ancora niente sei proprio ancora su le basi non affronti si fai anatomia ma sei allora un mio amico dice ma perché non andiamo a seguire un'autopsia e io mi dissi bene allora avevo delle conoscenze al San Giovanni che è un ospedalone a Roma eccetera sala settore ci fanno entrare tre in contemporanea c'erano tre autopsie un uomo di 65 anni morto per un tumore polmonare una donna di 40 anni morta per emorragia cerebrale e un feto di 6 mesi morto per emorragia gastrointestinale quindi in contemporanea quindi cioè dopo la botta iniziale perché anche se sei studente va un attimo vedi lì per la prima volta dei cadaveri che vengono aperti mamma mia ti fa impressione poi però prevale l'aspetto tecnico cioè vedi il polmone vedi come fa perché stai studiando anatomia devi studiare devi dare l'esame eccetera quindi poi ti fa un po' forza però allora io mi ricordo che c'è da fumatore affronto vedo il primo caso di tumore ai polmoni non è uno spettacolo con questi polmoni neri giuro erano grigi un grigio oscuro una cosa impressionante e la donna di 40 anni che aveva questi polmoni rosa perché non era la fumatrice no? la sai tu come fumatore cerchi di rimuovere il problema allora chiedo al medico che stava facendo l'autopsia all'uomo dico senta ma quest'uomo che lei sta che ha i polmoni grigi c'era grigi perché vive in città e la donna vive in paese in campagna no? ignorando che quella era fumatore si sapeva che era fumatore eravano già detto però che ti sai tu rimuovi ma questo c'era grigi perché vive in città a piena Roma quell'altra è fuori non so dove era frascatico del genere colmoni rosa questo mi fece no ma come ha detto una parola mi ha fatto così e poi ha fatto il dito così tac tac verso il mio cuore dove c'erano sotto le camel c'era il camice ma si vedevano le camel sotto quindi lui voleva indicare le mie camel io ho visto sto dito insanguinato che mi ha perforato il cuore ho rivisto ho visto il tumore del signore ho visto sto dito insanguinato che mi ha accentrato le camere quindi il mio cuore sono uscito a buttare le camere non ho più fumato una sigaretta da allora ogni tanto lo racconto stranamente poi qualcuno smette e dice mamma mia però in effetti già il dito cose tumore di polmoni cioè no allora a me non piace terrorizzare le persone perché magari tu fumi e non ti succede niente magari però ci sono buone probabilità che ti vai a prendere un bubù come la signora di oggi che ha 65 anni infarto asintomatico quindi va bene puntare il dito e colpevolizzare ogni tanto la strizza funziona dipende di capire chi hai davanti perché se hai uno pauroso poi gli induce una depressione pazzesca meglio evitare se trovi uno strutturato che gli dare una smossa mentale la può servire però chiaramente sempre col sorriso e io penso che la gente quando esce dal medico dal biologo nutrizionista deve pensare oh sto iniziando un cammino no che sono inciampato e trovo quello che mi dà pure le legnate addosso perché sono caduto come c'è mia madre che si spaventava io vedevo mi alzavo e mi da schiaffori capisco voglio bere a mia madre ma non è che tu potessi educativo fosse il massimo poi per carità può essere pure che funzionato ci stiamo un po' più attento non tanto per il dolore della caduta ma per gli schiaffoni di mia madre ma cioè io sono invece sempre per pensare che devi dare un bel messaggio se no avrei fatto al meglio che caspita di lavoro fai se puoi dimettere paura e basta c'è poliziotto anzi nemmeno poliziotto ancora faccio qualcos'altro faccio Dario Argento che vive con l'horror non esiste sta roba e quindi ogni tanto dopo questa dopo questa storia mi hai fatto venire voglia di smettere di fumare e io non fumo quindi penso che il messaggio sia arrivato senti grazie mille andiamo in chiusura noi perché ne abbiamo dette tantissime quindi grazie molte per il tuo tempo se qualcuno ti volesse contattare in qualche modo vuoi lasciare qualche recapito dalla tua clinica dove sta insomma se hai dei profili social non so come si preferisci allora sì io ho profili social la pagina Carlo Maggio quella sono su Instagram su LinkedIn c'è il mio il mio centro si chiama Salus Project e quindi c'è noi abbiamo tutto al sito per adesso fa un po' ridere perché è vecchio ma c'è comunque la possibilità siamo sui social anche con Salus Project e poi ricordo che chi volesse avere delle dei bei consigli qui c'è la società di medicina e nutrizione funzionale poi c'è anche l'INF associazione italiana di medicina funzionale noi abbiamo ci stiamo lavorando per dare questi suggerimenti in maniera equilibrata e simpatica devo dire stiamo lavorando insieme due società scientifica invece di farci gli scambetti anzi collaboriamo e quindi secondo me è un bel messaggio grazie mille grazie mille Carlo grazie mille a tutti quelli che ci hanno ascoltato come al solito se volete supportarci le nostre varie piattaforme le conoscete e se avete dei suggerimenti sui prossimi argomenti fateceli sapere grazie a tutti e alla prossima puntata grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti